Di una poetessa purtroppo sfortunata perché fu uccisa dai fratelli tra l'altro per una presunta storia sentimentale con un nobile del paese vicino, detto questo ho praticamente introdotto il personaggio che è famosissimo che è Isabella Morra. Di Isabella Morra si è scritta moltissimo, hanno scritto i grandi luminari della letteratura in particolare, hanno dedicato capitoli a Isabella Morra, però una ricerca attenta sui contesti storici, sul casato, sulle vicende che hanno accompagnato tanti episodi che poi hanno portato questo paese a chiamarsi poi alla fine Valsinni ed è sostanzialmente una cosa, potremmo definirla recente, nel senso che è solo di due secoli fa, rispetto a 1800 infatti, quindi due secoli quasi. Su tutto ciò Pasquale Montesano, collega giornalista ma soprattutto ricercatore storico di grande attenzione, ha voluto riprendere questo percorso, soprattutto alla luce di un fatto che non sempre veniva messo per bene in evidenza, e cioè questa poetessa lucana è stata presente alla corte di San Severino, è stata presente a Napoli, non è che sia e fosse solo vissuta all'interno delle quattro mura, si fa per dire del castello, aveva girato, aveva conoscenza, cultura e rapporti e quindi era di una formazione già di respiro differente rispetto a quello che si pensasse in passato. Il testo si chiama proprio Isabella Morra, la corte di San Severino, la prefazione di Raffaele Nigro, edito per i tipi di altri media. Pasquale Montesano è con noi, benvenuto. Grazie. Hai fatto Pasquale un lavoro estremamente attento, accorto, di spulciamento degli archivi? È un lavoro di lunga gestazione, maturato nel tempo, senza frenesia e soprattutto sono andato alla ricerca delle fonti storiche, seguendo un insegnamento del professor Giuralongo, che secondo il quale non mi dovevo mai fermare alla prima fonte storica, ma fare delle verifiche essenziali. Io ho ripreso un lavoro, in verità, che avevo… Sì, che già conoscevamo. Nel 1999 avevo pubblicato, sempre con la stessa casa editrice e altri media, un lavoro su Isabella Morra, ma era soprattutto un lavoro che aveva preso spunto su un manipolo di lettere che Benedetto Croce e Domenico Guarini si erano scambiati all'indomani della visita che il grande filosofo napoletano aveva fatto a Valsinni nel 1928. Poi andando a casa di Alda Croce riuscì ad avere anche le lettere di Guarino a Croce e ne uscì questo carteggio con alcuni cenni storici sul paese. È chiaro che per scrivere un po' la storia del paese sono necessari ulteriori fonti e andare nei giusti archivi. E ciò che ho fatto in archivi pubblici e privati in Italia e anche in Francia, la Biblioteca Nazionale di Parigi, dell'Arsenal e a Limoges in particolare, dove vissero poi quei Morra che erano fuggiti da Favale. Certo, che poi era il padre di Isabella, giusto? E' il primo che andò in Francia, lì dove viene definito Limosino. Il Limoges, che era un luogo tutto particolare sul piano feudale, avevano una certa autonomia, non erano molto controllate dal re, dalla regia corte. Insomma, i Morra erano feudatari di Favale, dico bene? Erano feudatari di Favale, per un matrimonio celebrato verso la fine del 1400 con la famiglia Vivacqua di Orioli. Erano su feudatari, i Morra, del principe Ferrante Sanseverino di Salerno. I Sanseverini erano due famosi cugini importantissimi nel 1500, Ferrante a Salerno e Pietro Antonio Sanseverino era principe di Bisignà. Avevano due stati, nel senso avevano tanti di quei feudi, avevano tanti di quei privilegi di Sanseverino che erano quasi equiparati al re. I Morra erano su feudatari, quindi perché ad un certo punto, chiamiamolo capostipite nel senso di fatti evidenti, Giovanni Michele Morra scappa in Francia, perché va in Francia? In Francia perché nel 28, quando ci fu la guerra tra la Francia e la Spagna, Giovanni Michele Morra parteggiò subito con Francesco I, quindi si è esposa alla parte dei francesi e collaborò moltissimo, lo troviamo nei documenti storici esaminati, lo troviamo a Taranto, a Barletta anche nel 1529. Però venne meno con questa sua scelta, venne meno a quel principio di fedeltà a Carlo V e soprattutto al suo principe, del quale era su feudatari. Ma nella storia di famiglia, ed è importante perché tutto ciò si è saputo attraverso la storia della famiglia Morra, scritta da Marco Antonio Morra, c'è un nipote, il figlio di Camillo, il quale in questa storia di famiglia fa molte omissioni, è una storia che dice tante cose, accende a tante cose, però nello stesso tempo esalta soprattutto il casato, tanto è vero che fa apparire morto il nonno Giovanni Michele Morra. Che era vivente. Quando successe la tragedia, la strage di famale, la morte di Isabella, del pedagogo e subito dopo di Diego Sandovalde Castri, fa apparire il nonno addirittura morto quando era vivente, era un militare al servizio di Francesco I, lo ritroviamo con un documento scoperto alla biblioteca di Parigi alcuni anni fa, capitana delle guardie svizzere a Seut di Giovanni Caracci, lo principe di Melfi, anche gli esole, cioè vediamo che a un certo momento venendo meno a questa fedeltà e subendo ovviamente le conseguenze come traditore, dovette fuggire in Francia, si sistemò la corte, fu seguito dal primogenito Scipione Morra che divenne segretario poi della regina Caterina dei Medici e poi tutti, la maggior parte di tutti i Morra trovarono sistemazioni in Francia. Come dire, trovarono l'occupazione giusta all'interno della corte eccetera eccetera. Isabella, dove era? Era con la Castriota Scanderberg in particolare. Isabella Morra diciamo che per 14-15 anni, lei innanzitutto riusciamo a sapere con questa ricerca anche alcune date fondamentali, innanzitutto che nel 1517 Giovanni Michele Morra si sposa e il primogenito Marc Antone che poi diventa barone nasce nel 1518, Isabella Morra e Scipione che erano coetanei, nacquero tra il 1519 e il 1520, non oltre. 8 figli mi pare. 8 figli in 11 anni, l'unica data certa è quella dell'ultimo figlio Camillo nato nel 1520. Vale sempre, non c'era la televisione, si vede, anche per i nobili. Isabella visse 14-15 anni nel feudo di Favara, ovviamente senza più il padre, quindi in un clima tutto particolare, un po' oppressivo pure, ma nello stesso tempo come tutta la nobiltà della zona, del territorio della Basilicata e come della Calabria frequentava le altre famiglie nobili. fu subito presa a cuore dalla seconda moglie di Pietrantonio Sanseverino e cioè Giulio Orsini alla quale dedicò anche un sonetto, sperava molto probabilmente in un matrimonio imminente che dovesse avere luogo in quel periodo, se non che Giulio Orsini muore nel 1538 e si sposa l'anno successivo nel 1539, Pietrantonio Sanseverino, con Erino Scandeberg Castriota, pronipote del grande condottiero. Era pronipote dell'eroe nazionale albanese. Allora, Isabella frequentava sicuramente Giulio Orsini. Anche perché c'è traccia di, come dire, compensi, pagamenti per il sostentamento. Alla corte di Pietrantonio Sanseverino Isabella Moro fu chiamata nel 1543 da Erina Castriota Scandeberg come dama di compagnia della figliastra, cioè di Felicia Sanseverino, che poi era la figlia, la seconda figlia di Giulia Orsini, la seconda moglie di Pietrantonio Sanseverino. Si era sposata nel frattempo la sorella maggiore di Felicia, Eleonora, anch'essa poetessa, e i genitori chiamarono Isabella perché poetessa, perché aveva frequentato la corte e perché era tutto sommato un'amica ormai della famiglia. E legarono molto Felicia Sanseverino con Isabella Moro. E si è fermata lì tre anni e riceveva un convenso, 70 ducati all'anno. Certo, documentato. Documentato perché in un archivio privato della Calabria, e devo ringraziare sempre il professore Antonello Savaglio, dalla deputazione di Storia Patria della Calabria, che ha avuto la fortuna di trovare alcuni registri fondamentali, dove risulta che Isabella Moro percepiva, per tre anni di seguito, 70 e 90 ducatallan come dama di compagnie di Felicia Sanseverino. Ecco, veniamo invece all'evento luttuoso. Viene ammazzata dai fratelli, tra l'altro ci sono anche delle interpretazioni per quel che riguarda la morte di Diego Sandovalde Castro, le date sono differenti. Intanto perché i fratelli la uccidono, uccidono il pedagogo, più o meno? Se l'uscissimo, perché il pedagogo la faceva da intermediario. Vabbè, e lei? Isabella Moro ritorna a Favale dopo aver ricevuto l'ultimo convenso il 30 novembre del 1545, perché? Solitamente lo riceveva a fine dicembre di ogni anno, perché Felicia Sanseverino si era sposata con Antonio Orsino e quindi si era trasferita da poco a Gravina. Isabella torna al castello di Favale e molto probabilmente non voleva più fermarsi. Ma l'intreccio a questa relazione? Questa relazione ancora non sappiamo se fu una relazione d'amore sbocciata tra Diego Sandovalde Castro, conosciuto poi se è anche un bell'uomo, e Isabella Moro, oppure Isabella Moro fu aiutata o stava per essere aiutata da Diego Sandovalde Castro per fuggire, per andare via, per andare fuori dal regno di Napoli, probabilmente per raggiungere i genitori, ma queste sono ancora supposizioni. Vediamo intanto perché ammazzano anche Diego Sandovalde Castro, ci vanno in quattro della famiglia addirittura. Sì, non soltanto tre fratelli, ma anche due zii che erano nel castello. Che poi è un omicidio tecnologico, perché usano gli archi bugi. Esattamente, evidentemente erano già in uso in quella famiglia e quindi nel territorio. l'ho ucciso perché, secondo la storia di famiglia, sarebbe intervenuto presso il governatore di Basilicata per far allontanare Isabella Moro dal feudo, ciò che non è stato mai dimostrato. Loro fanno apparire la tragedia per motivi di onore. Diego Sandovalde Castro fu ucciso subito, due o tre mesi dopo, Isabella Moro. Isabella Moro fu uccisa molto probabilmente nel periodo di Natale del 1945, perché subito dopo, dopo due o tre mesi, ci fu l'anguato a Diego Sandovalde Castro. È documentato questo episodio dal fatto che subito dopo i tre fratelli riuscirono a arrivare in Francia e il 21 luglio 1546 Decio Moro si trova alla Corte di Parigi con il decreto di nomina di abbate del monastero di Benevento, nel Limosino. Quindi, Limosino che sarebbe il territorio di Limoge. Quindi questo è il quadro complessivo. Ci sono grandi novità, come vedete, specialmente riguardo alle motivazioni del primo omicidio di Isabella e del secondo omicidio di Diego Sandovalde Castro. Voglio far apparire come un delitto d'onore a tutti gli effetti. Ci provano in tutte le maniere. Tutto questo è contenuto in questo volume, dove ci sono anche le poesie di Isabella Morra in appendice, dove si arriva fino ai tempi in cui poi cambia il nome Favale in Valsinni ed è tutto raccontato con dovizia di citazioni di documenti storici da Pasquale Montesano, che ringraziamo per essere stato con noi. Il titolo del volume Isabella Morra, la Corte di San Severino, con la prefazione di Raffaele Nigro per i tipi di Austrimedia editrice. Grazie a Pasquale Montesano e per quel che riguarda noi, come al solito, alla prossima! Grazie a tutti!